Il documento che è questa frase di riferimento, i contenuti della norma e lo schema di certificazione dedicato, specifico, condiviso dal CIC, certificazione. La prima degli appartamenti è l'installazione della valvola termostatica. Io mi occupo di dire la portata di acqua che entra in un singolo radiatore. Ogni sei mesi o quando si riabbia... quale c'è il forte di acqua di acqua. Testa valuante è, questa buona toma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.